Il processo per corruzione elettorale non si ferma. Tra gli imputati, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, il sindaco di Rosello, Alessio Monaco, e l'ex consigliere comunale di Pescara, Vincenzo Dogali. Il giudice monocratico ha dato il via libera alla trascrizione delle due intercettazioni ambientali, le quali diventano ora elementi del processo. Tutto è partito da un'indagine su Dogali, medico accusato di peculato per aver continuato a svolgere la professione dopo il pensionamento. Per incastrarlo, gli investigatori hanno fatto installare un microfono e una telecamera nello studio del medico ed è allora che si sono resi conto che le ipotesi di reato potessero essere più gravi di quanto sospettassero. Gli apparecchi degli investigatori hanno registrato i due incontri con gli esponenti politici. Nelle elezioni regionali del 2019, Sospiri e Monaco appartenevano a due schieramenti opposti. Il primo, con Forza Italia, sosteneva Marco Marsilio. Il secondo, con più abruzzo, era dalla parte di Giovanni Lennini. Eppure i due imputati si sarebbero recati dalla stessa persona, ovvero Dogali, per raccattare i voti. Sospiri a Pescara e Monaco nel collegio di Chieti. Secondo l'accusa, Sospiri avrebbe promesso a Dogali, in cambio del suo bacino di preferenze, un qualche incarico nell'ambito della sanità, promessa che evidentemente non è stata mantenuta, perché Dogali non ha ottenuto alcunché dalla vittoria di Marsilio. Monaco invece sarebbe stato più concreto, 200 euro in contanti, che il medico avrebbe dovuto girare ad alcuni infermieri affinché questi facessero campagna elettorale nei corridoi dell'ospedale. A seguito di quelle elezioni, Sospiri è diventato presidente del Consiglio regionale, mentre Monaco non è stato rieletto. Gli avvocati difensori hanno chiesto che le intercettazioni non vengano usate nel processo, perché erano state disposte per un'altra inchiesta, quella per esercizio abusivo della professione che coinvolge il solo Dogali. Il giudice monocratico però ha respinto la tesi della difesa. Dando ragione alla Procura, le intercettazioni sono considerate corpo del reato e in quanto tale saranno trascritte. Martedì sarà affidato l'incarico imperito e dopo le ferie estive il processo continuerà nelle aule del Tribunale, dove ci si scontrerà sull'interpretazione dei colloqui incriminati. Le intercettazioni ambientali rappresentano l'unica prova che dimostrerebbe il reato di corruzione elettorale a carico dei tre imputati. Se il giudice ne avesse negato l'utilizzo, il PM si sarebbe trovato costretto a chiedere la soluzione per tutti e il processo si sarebbe concluso in un buco nell'acqua.